buongiorno ascoltatori siamo a premia con franco simonetti esperto di pietre preziose ecco facciamo una panoramica delle pietre prezose quale sono le pietre preziose allora le pietre sono tutte preziose poi dipende dal gradimento e dalla dalla commerciabilità chiaramente il diamante è ritenuto da quasi tutti gli amanti di queste di queste grandi pietre è ritenuto il diamante la pietra numero uno per eccellenza quella che ha avuto il maggior successo commerciale ciò non toglie che ci sono tantissime pietre meravigliose bellissime all'altezza del diamante ecco ne tirate fuori alcune ecco illustraci un po quale sono queste pietre certo questo è un rutile che ha delle inclusioni estremamente particolari che gli danno delle caratteristiche tutte sue uniche è una pietra che si può presentare in vari colori questa ha una un'inclusione color dorata ma può esserci con un'inclusione verde rossa di tutto una varietà molto diversificata di colori ma che cos'è che c'è all'interno sono delle sono delle inclusioni sono delle delle parti possiamo definirle impurezze che danno però questa caratteristica estremamente particolare che rende la pietra unica preziosa ecco vediamo le altre pietre questo è un diamante nero un diamante nero di 7 carati e 80 perché i diamanti ci sono di tutti i colori in natura molti pensano che il diamante sia solo bianco non è così diamante c'è nero giallo verde rosso blu color champagne c'è di tutti i colori sono tutte pietre naturali il diamante nero è una delle pietre che ha la caratteristica di poter essere o luminoso o opaco mentre solitamente tutti gli altri sono luminosi ecco poi vediamo cosa c'è l'altro questa è un'acqua marina un'acqua marina di una dimensione decisamente importante l'acqua marina è una delle pietre che solitamente non ha impurezze infatti è completamente trasparente ed è una delle pietre preferite dalle signore ecco poi cosa abbiamo ancora questo è uno smoky quartz uno un quarzo fumet la dimensione di queste pietre è adatta non per un anello ma per un pendant ed è una pietra abbastanza comune ma non per questo meno bella di tante altre pietre questa colorazione scura dà proprio l'impressione che contenga del fumo ecco da cui l'origine del nome quarzo fumet capito va bene infine questa è una pietra alla quale io sono particolarmente affezionato è uno zircone anche gli zirconi possono essere di diversi colori possono andare dal rosso al giallo al viola e tante altre tonalità è una pietra adattissima per un anello molto brillante è una pietra che io preferisco addirittura al diamante io sono innamorato dallo zircone è una pietra che si presta per moltissimi usi adattissima anche per fare degli orecchini stupendi ecco il valore delle pietre da cosa dipende dipende decisamente da tanti fattori uno dei fattori è la caratura la caratura è quella che dà il peso della pietra tenendo conto che un carato corrisponde a 0 20 grammi si può avere quindi la percezione del peso tenendo conto di questa di questa proporzione la dimensione è importante perché più le pietre sono grandi e meno ce ne sono quindi diventa diventa una una rarità quello di avere delle pietre di grandi e di grandi dimensioni la purezza per certe pietre è importante per altre meno perché come dicevo il rutile è importante proprio perché ha delle inclusioni poi c'è la brillantezza ci sono molte altre caratteristiche di tipo commerciale che non hanno niente a che vedere con l'essenza l'intrinseca della 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 pietra ma semplicemente vengono portate avanti dal commercio quindi il diamante è sempre stata la pietra commerciale numero uno e non non solo perché ha una brillantezza del tutto particolare ma perché è vista anche come pietra da investimento anche se devo dire recentemente tutte le pietre ormai sono considerate pietre da investimento non più solo il diamante parliamo di una curiosità l'abbinamento coi segni dell'oroscopo sì l'abbinamento coi segni dell'oroscopo è un abbinamento che dà una indicazione di quelle che sono le pietre favorite dal segno tenendo conto che non vale per tutti perché quando una persona vede e tocca una pietra ha delle vibrazioni non è detto che la pietra di abbinamento col suo segno trasmetta sempre quelle vibrazioni può darsi che sia una pietra che non corrisponde al suo segno quella che gli dà queste vibrazioni particolari allora il mio suggerimento è dimentica la pietra abbinata al segno e prendi quella che con te ha la vibrazione ideale comunque nella maggior parte dei casi per esempio all'acquario si abbina il granato ai pesci la metista all'ariete il diasporo sanguigno al toro lo zaffiro ai gemelli l'agata al cancro lo smeraldo al leone l'onice alla vergine la corniola alla bilancia il peridioto allo scorpione l'acqua marina al sagittario il topazio e al capricorno il rubino ecco ultimo consiglio comprare sempre pietre certificate naturalmente certo avere un certificato tipo questo avere un certificato da una tranquillità che la pietra è una pietra autentica perché alcune pietre vengono create in laboratorio ovviamente hanno la stessa luce la stessa brillantezza a volte sembrano anche più belle ma non sono pietre naturali sono pietre lab created quindi create in laboratorio io diffido sempre da cose che non siano naturali ecco che allora un certificato tranquillizza sicuramente l'acquirente che ha in mano una pietra veramente autentica grazie a tutto giro per chiseo vice press da premia